Bella a tutti ragazzi qui è WilliJabber e rinnovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati su GTA 5 online con il primo video dell'anno Perché oggi è 1 gennaio Comunque su GTA online sta nevicando e mi dicono buone feste, un cannone pirotecnico eccetera eccetera Comunque partiamo immediatamente una gara GTA Siamo in 9 giocatori quindi veramente un zacco Quindi questo qui è un video assolutamente speciale a parte perché è il primo dell'anno E tra l'altro perché abbiamo la neve ragazzi Abbiamo la neve su GTA che è veramente una cosa rarissima A me la neve mi piace veramente tantissimo Quindi iniziamo a piazzare le bombe adesive Vediamo, vediamo di fare un buon anno a tutti come si deve Ok qua si frena, giriamo, sei un grande, grazie mille Ok ragazzi comunque qua dovremmo affrontare questo mega spirale credo Allora io piazzo una bella bomba qua, perfetto Dobbiamo usare il turbo, c'era scritto di usare la prima ma noi andiamo in terza Noi andiamo in terza, dove devo andare? Che cavolo è successo? Ho preso? Ma l'ho preso il checkpoint? Aspettate un attimo che ricompaio perché non ci sto capendo nulla No non l'abbiamo preso boh E allora andiamo in prima persona come veniva consigliato Comunque c'è ragazzi questo qui è il primo video che registro con il bluietti Quindi non so come mi sentirete Non so se l'ho regolato bene, non so se l'ho regolato male Intanto siamo andati fuori Vabbè comunque se si sente male ovviamente poi lo andrò regolarizzando con il tempo Perché è questione di prenderci la mano Allora il checkpoint è qua Prendiamolo, perfetto L'abbiamo preso, non sbandare Vai Osiris Mamma mia l'Osiris La Osiris cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Che giochi? Che giochi? Allora, prendiamo assolutamente le mine Siamo in prima? Siamo in prima, ottimo Comunque le auto non vrenano con la neve Praticamente è compromessa la frenata Prendiamola un'altra qua Ora dove deve andare? Deve andare su mi dice E andiamo su, andiamo su E andiamo su Allora lo dobbiamo fare un'altra volta E non lo so ragazzi Dov'è il check? L'ho visto? L'ho visto? L'ho preso? Forse no Forse non ho preso il check E' su questo lato il check Vediamo di prenderlo Eccolo lì Preso, l'ho stendito il botto Allora, dove devo andare? Qua ci sta un coso Perfetto Bel troll Indando io ho fatto esplodere ad uno Ma il check dove sta adesso? Ah ok, il check è qua sotto Quindi basta che mi lancio Precisione Precisione Non esplodere Perfetto Che cavolo è successo? Cioè, mi hanno fatto volare un coso? Vabbè dai, andiamo avanti Adesso abbiamo ancora le nostre mine di prossimità Che ancora continueremo a piazzare Già mi hanno fatto esplodere ad uno Con le mine Ok, un'altra mina qua Una mina ogni curva non va male Ok, vedo il traguardo Adesso andiamo a concludere Dove vado? Dove vado? Ho sbagliato totalmente strada Ok, ecco qui il traguardo Ok, stavolta concludiamo veramente Quello mi aveva beccato male Ma abbiamo concluso in prima posizione La prima gara di oggi Questa qui è stata una gara non male C'era un mega spirale Un mega loop Ehm, veramente assurdo Cioè, era veramente enorme Però l'abbiamo fatto senza troppi problemi Quindi ne andremo a fare un'altra Ed eccoci qua ragazzi Con la seconda gara di oggi E' veramente Qua si è buggato tutto Siamo in 11 giocatori La c'è un giocatore che balla Perfetto Comunque si è buggato tutto E non mi ha fatto scegliere neanche la macchina Guardate quello cosa fa Cioè, è assurdo Comunque partiamo Siamo in 11 Già l'ho detto Ok, abbiamo l'attivendi Me l'ha scelta il gioco praticamente Allora, dovrebbe essere un'unica ramba Tutta ad un giro Non so come Allora, vediamo un attimo Qua Perfetto Già abbiamo fatto un buon pezzo Perfetto Come? Siamo da soli? Ragazzi, ma siamo dei mostri Abbiamo fatto tutto quello al primo tentativo Con la neve No, assurdo Assurdo La forza del Natale Del Natale Della neve semmai Però mi sa che non arriveremo mai Alla piattaforma Alla di fronte Per prendere il check Perché da bravo deficiente Mi sono fermato Bene E comunque stavo dicendo Siccome io devo fare le cose assurde E mi devo fermare sulle rambe E quindi vado fuori Ottimo Comunque come al solito Saluto e ringrazio Guardate qua cosa c'è Come al solito Saluto e ringrazio Tutti quelli che stanno giocando con me Vediamo di affrontare questo wallride Ma abbiamo veramente pochissima velocità Ragazzi Sono tutti là Imballati Riproviamoci Perché non c'è nessuno Riproviamoci Vediamo Ma la guida sbaglia Ragazzi A pensare che ce la stavo facendo Il primo tentativo Mi viene il nervoso Perché ora sono passati Ben sei minuti E mi viene veramente il nervoso Perché lo stavo eseguendo la prima Quello è volato via Dai Dai che forse ce la facciamo Vai vai Ti vendi Dai 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 Lo devo prendere per forza Non è che slitto Ok perfetto L'abbiamo preso Finalmente l'abbiamo Eeeh Ok Vedo bene Vedo Fottutamente bene Devo rifare la ramba Veramente Ce n'è uno No aspettate un attimo Aspettate Prendilo E vaffanculo Ti vendi pure te però Dai saltiamo Prendiamo questo check Allora ragazzi Il check Il prossimo check Il prossimo check È là Quindi devo rifarmelo Ancora una volta E ci sono ben sei check point Quindi non mi dire Che la devo fare più di una volta Veramente Cioè già la devo rifare Una seconda volta Da quello che ho capito Nooo Quello c'è il vuole ride Non lo dovevo incontrare Mai nella vita Però ragazzi Così non è possibile La gara Impossibile Il giro dentro È il giro La mia auto Perde velocità La gente che si ferma Sulla ramba È veramente qualcosa Di assurdo Vediamo se ce la facciamo adesso Vediamo Vediamo Vai vai Ti prego Ti prego No no Per pochissimo Cavolo Ok dai 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 Stavolta Dimmi che ci arrivi Ok Mamma mia Se non ci arrivava Raga Se non ci arrivava Qui spaccavo qualcosa Ok prendiamo sto check Ancora Ancora una volta Stiamo scherzando Vero Ditemi che è uno scherzo Ancora una volta Ancora una volta Questa gara la finiamo domani mattina Ah ok Qua c'è il traguardo Quindi questo è l'ultimo giro Dai speriamo di farlo Al primo tentativo Almeno Dai 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 Manca l'ultimo check Ti prego Non perdere velocità Vai vola Vola Adesso frena Non volare troppo Non volare troppo Dai 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 Gira Gira Preso Ok perfetto Accelera al massimo E prende anche il traguardo Ok traguardo preso E concludiamo In prima posizione Questa gara ragazzi Assurdo però Assurdo 22 minuti Questa fottuta gara Il giro nel giro C'era C'erano 3 giri Dentro un giro Meno male che ho tolto un giro Perché sennò erano 6 giri Comunque è stata una gara Parecchio difficile Non so perché è stata così difficile Credo forse per la neve Perché la neve ovviamente Come dire Distrugge un po' La trazione Tra il container E l'auto Quindi ne andremo a fare un altro Ed eccoci qua ragazzi Con la terza ed ultima gara di oggi Siamo con le moto ragazzi Tutti che suonano con i clacson Suoniamo anche noi Comunque questa gara Per avviarsi Ci ha messo veramente una vita Siamo in 14 giocatori Veramente un sacco Partiamo immediatamente Sotto questa magnifica neve ragazzi Ok partiamo Comunque dovremmo fare una gara un po' Oh cavolo Dobbiamo frenare Ecco me hanno ucciso Perfetto Ok giriamo E ragazzi Comunque andremo a fare Ma metterano addosso Sono spawnato morto Comunque stavo dicendo Andremo a fare ovviamente Una gara veramente assurda Cioè Già sono morto in maniera assurda Sono penultimo Vabbè dai recupereremo Tanto qua tutti si ammazzano E anche io mi ammazzo Allora dobbiamo entrare dentro il container Questo è sicuro Ma muoio Mi hanno ucciso Appena stavo uscendo No assurdo però Ci puoi arrivare Sette giri bene Ci arrivi Coglione sei Ok qua c'è un container Prendiamo questo check Ragazzi Finalmente ce l'abbiamo fatta Cioè Abbiamo dovuto aspettare Che tutti passassero Perché non si riusciva a passare Ragazzi Veramente Tremenda sta cosa Vabbè dai Impegniamo Raggiungiamo la Il checkpoint Ok fa nulla che siamo qua L'abbiamo preso Vai vai Ok si sale qua Andiamo dritto Sui container Perfetto Comunque Si scivola un po' Perché c'è la neve Quindi non ci aiuta Per nulla Questo fatto Oh Oh No E chi cazzo me lo doveva dire Che c'era una ramba Al contrario Ok dai Siamo su queste piattaforme Andiamo avanti Perfetto Adesso si sale Qua E adesso Dobbiamo andare Sull'isolotto Perfetto ragazzi Veramente molto bella Come gara Ok devo andare Dentro la casetta pure Settima posizione Dai Tutto sommato Abbiamo recuperato Delle posizioni Che avevamo perso Ok qua continua La gara E noi abbiamo mancato Il container Mi sembrava ovvio No Allora andiamo qua Adesso dobbiamo affrontare Queste cose molto strane Che dovrebbero essere Si è esatto Sono le insegne start Finishing Messe al contrario Allora Questo qui va avanti O lo devo spingere Va avanti O lo devo spingere Andora mi spingono a me Guardalo Guardalo lì Come arriva Kamikaze Allora Vediamo da andare Tranquillamente Dai Perché già che sono Scivolose di Ecco perfetto Stavo dicendo Già che sono scivolose Di su Le gomme E adesso con la neve È il doppio Quindi infatti Siamo andati giù Veramente in Un secondo Dai riproviamo Riproviamo Mamma mia A massima velocità Ce l'abbiamo fatta Insomma A massima E ora siamo caduti giù Ci sono delle rambe Perfetto Saliamo qua Su questo Bellissimo Dove devo andare Ok Dove andare qua Giù per questa scalinata Saliamo qua Dai Dovremmo andare avanti Tutto sommato Ci dovremmo arrivare Impegniamo Impegniamo Perfetto Ce l'abbiamo fatta Hanno già concluso In prima Quindi il triste Di vittoria Praticamente Ce lo sogniamo Ce lo scordiamo Comunque dai Siamo sul podio Abbiamo recuperato Veramente tantissimo Allora Ok Qua c'è un albero E dobbiamo salire Sull'albero Perfetto Si sale sull'albero E adesso Ok Perfetto Ci siamo Ragazzi Questa gara trolla Perché ci sono gli alberi Che non ti fanno vedere Praticamente nulla E poi Quando ti giri Vedi tutto E muori male Vabbè Andriamo qua Siamo in terza posizione Dai dai Ce la dovremmo fare In teoria Adesso dove devo andare Dove devo andare Ah ok Devo Cosa devo fare Per l'esattezza Andare indietro E saltare Là Non ce la farò mai Invece ce la facciamo E perfetto Bella Ok dai Siamo su Adesso dobbiamo girare qua C'è il checkpoint Prendilo Che cazzo fa Ragazzi Non ci credo Cioè ho cliccato R2 E non accelerava più No è assurdo E ora mi hanno recuperato tutti E no Mi devo muovere Perché il punto dei container Con tutti è veramente Un gazzino Assurdo Quindi Ma se io mi lancio Verso il check Posso? Evidentemente no Regniamo Giriamo di qua Raggiungiamo il check Stavolta Vero? Vero che ci arrivi? Bravo Comunque mi sa che concluderemo Adesso in Sotto il podio Perché veramente Ci hanno superato Ok adesso Dobbiamo salire su Per il faro Che credo che sia Il punto clou Della gara Diciamo Andiamo su Andiamo su Andiamo su Perfetto Dovrebbe essere Molto semplice Ok Difatti siamo già in gima Adesso Prendiamo qua Acceleriamo E andiamo Dentro il traguardo E concludiamo In quarta posizione Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere se il video Vi è piaciuto Lascendo un bel like Oggi abbiamo giocato Veramente delle gare Assurde E' stato veramente Un episodio Molto bello A parere mio Soprattutto perché C'era la neve Quindi veramente Molto particolare Quindi fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Lascendo un bel like Inoltre fatemi sapere Come mi sentite Con questo nuovo microfono Se lo devo ancora Regolare un po' Quindi se volete Passare dalla pagina Facebook Se arrivate in descrizione Vi auguro Nuovamente Buon anno a tutti Iscrivetevi al canale Per nuovi video Qua dovevo leggere tutto Bella raga Mezzanotte Domenica 31 1 gennaio 2016 Buon anno a tutti Ragazzi Buon anno a tutti Dove sono finito Non lo so Qua stiamo sparando A random Nel cielo Con i cannoni Pirot Guardate lì Che figata Guardate Guarda Che spettacolo